Oggi alle 16.20 andrà in onda un nuovo episodio del segreto che ci accompagnerà i colpi di scena previsti nei prossimi giorni, che avranno a che fare con Leismes e Jacinta, ma anche con Candela e il suo segreto da quando è tornata a Piente e Viejo. Se volete saperne di più, non vi resta che continuare nella lettura delle anticipazioni della puntata. Jacinta e Leismes continuano a tramare una misteriosa vendetta ai danni di Aurora, Mauricio è convinto che Fee faccia il doppio gioco, Gonzalo si reca da Candela e la donna lo tratta duramente, rifiutandosi di andare agli Aralla a far visita a Maria e rinfacciando gli sacrifici che ha sempre fatto per lui e la sua famiglia. Fee nega di aver riferito a Fulgencio di aver visto Mauricio mentre frugava nella sua valigia. Mauricio le crede, ma decide di sospendere le sue investigazioni su Fulgencio. Leismes finisce il preparato letale chiesto gli da Jacinta. Gonzalo dice a Maria di credere che loro figlia sia ancora viva e questo barlume di speranza dà a Maria la forza di affrontare la quotidianità.